Chi sono i finalisti del grande fratello? Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi, a luci spente, durante la notte, hanno fatto delle riflessioni su chi tra loro potrebbe arrivare in finale. Secondo i ragazzi, ad arrivare in finale saranno sicuro Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Anita Giuseppe Garibaldi, Paolo e Letizia e naturalmente Massimiliano Varrese perché anche lui è forte. Manca dalla lista Vittorio o Menozzi che secondo loro non andrà in finale ma i ragazzi non sanno che Vittorio invece è molto amato fuori dal pubblico. Quindi tutto può succedere. Secondo voi le previsioni di Perla e Giuseppe sono corrette o invece voi la pensate completamente in un altro modo? E Perla arriverà in finale? Lei non si è messa nella lista. 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 Lei non si è messa nella lista.